Ferramenta Moschini In via Roma 63 a Piagge in provincia di Pesaro Urbino Telefono 0721 89 01 36 Voglia di pane? Andiamo da Marconi Lo storico panificio è presente a Piagge dal 1956 E offre una vasta varietà di pane fresco e pizza Ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona Vendita all'ingrosso e al dettaglio Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino Telefono 0721 89 01 40 Mmm che buono questo pane Caro mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì mi porti alla pizzeria da pali E da pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia levitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine Pizzeria da pali, via Roma 28 Piagge in provincia di Pesaro Urbino Telefono 0721 89 04 66 Pizzeria da pali Pizzeria da pali Mmm che buona Chiuso il mercoledì Agriturismo da Gustinel Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna Tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo, allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari E inoltre piadina e formaggi locali Menu esclusivi su prenotazione Telefonate al numero 0721 89 01 83 Da Gustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino Ristorante Pizzeria Pineta Pizza ad alta digeribilità Pasta fatta in casa Sughi con tartufo pregiato di stagione Funghi locali Ragù di carne di cinghiale Capriolo Anatra Tutto naturalmente con olio di frantoio barchigiano E che dire dei secondi Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello Vini di qualità locali e birra artigianale Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna Su richiesta Spettacoli musicali per feste e ricorrenze Pizzeria e ristorante La Pineta A Cagli in provincia di Pesaro Urbino In viare della Vittoria 13 Info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29 La Lanterna Bianca, associazione ONLUS con finalità umanitarie, organizza un concorso diaristico in memoria di Filippo Maria Tripolone La partecipazione è gratuita Info su www.lanternabianca.it RT Radio RT Radio e Montefeltro TV Finalmente in studio oggi una puntata particolare Abbiamo qui Raffaella Vagnerini Pensate un po' del PD Siamo riusciti a portare un rappresentante Insomma un futuro rappresentante Almeno lo speriamo perché sembra giovane Questa promette un po' di più di altri Sicuramente è meno antipatica Scusa la nostra chiarezza Ma possiamo anche non fare questa registrazione Che ne so, del suo rappresentante Vabbè, quello non lo nominiamo Magari di Traversini o altri Benissimo Ciao Raffaella Innanzitutto grazie per essere qui Sei molto coraggiosa Sei arrivata dal Galbanelli del Montefeltro Grazie a voi Bene, naturalmente non saremo qui per scannarti Ecco, perché ci sembri anche una persona simpatica Tra l'altro ci ha anche colpito il tuo modo di agire I tuoi spottini che abbiamo visto su Youtube Che magari poi in coda ne mettiamo anche qualcuno Ecco, innanzitutto vorremmo capire Ecco, teniamo presente che giorno 10 Tu sarai ospite in questa maratona Che organizziamo a Mercatale di Sasso Corvaro All'hotel Arca E tu sei alle 16 Mi ricordo bene Perfetto, tu sarai alle 16 Quindi mi raccomando E gente del PD E non E non Certo Intanto vediamo un attimino Se riesci a conquistare il popolo del non voto Io sono uno di questi Sarà difficile che conquisti La mia simpatia sicuramente Cioè la tua simpatia Che la conquisto io E anche il contrario spero Però sicuramente Questo popolo del non voto Che sembra che in questo momento Almeno i sondaggi Sembra che sia del 50% Attenzione E poi una richiesta personale Una scommessa Nel tuo ambiente Quindi nel PD Se riuscirai a prendere i voti Che provengono dai circoli Anche perché lo devo dire So che tu non vuoi parlare di questo Ma io insisto E abbiamo fatto anche un attacco personale Contro una serie di sindaci Perché a noi non è piaciuta E lo devo dire Questa cosa Che un rappresentante Diciamo a te concorrente Magari evitiamo anche di fare il nome E sia stato presentato Come appoggiato da una serie di sindaci Qui nell'entroterra Ecco Non so se vuoi rispondere a questa domanda Io te la faccio insomma Dimmi quello che pensi su questo E poi iniziamo ovviamente E dai un'intervista con te Allora non è nelle mie corde Quello di fare polemica O di essere particolarmente tagliente Nei confronti di chi Assume una posizione Però in questo caso Anche io sono rimasta un po' sorpresa In quanto i sindaci dovrebbero rappresentare Quasi una neutralità Rispetto a questo momento elettorale Per cui sono rimasta fortemente colpita È evidente che se sono contenti Dell'operato Del candidato Possono in qualche modo manifestarlo Però uno schieramento così compatto e coeso Mi lascia pensare A qualcosa anche Di più profondo Evidentemente il mio percorso continua Perché i sindaci rappresentano se stessi Sicuramente hanno un impatto Sull'elettorato Però io invito tutti ad andare a votare Invito coloro che appunto Sono invece scontenti di questo operato Che non si sono riconosciuti nella politica Come è stata condotta finora A prendere una strada diversa E a considerare che un'alternativa esiste Ecco parliamo un attimo di questo Iniziamo da questo Allora io sono una di quelle persone Che non vanno a votare Non vanno a votare perché Non perché non vorrebbero andare a votare tutt'altro Perché non si sentono rappresentati Da nessuno di questi Anzi personalmente Sono uno di quelli che fu riuscito Dal Movimento 5 Stelle Ero attivista e come anche Ecco detto questo Cioè dovrei fare la scelta Del meno peggio? Sì Per portare a casa Che cosa? Per dare un segnale Per dare un segnale Che le persone Cominciano a interessarsi Alla politica E che quindi Chi fa politica Deve prestare attenzione a questo Io non ho mai fatto politica E oggi mi cimento Proprio perché Penso che sia indispensabile Dare un segno di responsabilità Impegnandosi in prima persona Se si ha l'occasione di farlo Se quest'occasione non c'è Facendo comunque una scelta Perché non facendo nessuna scelta Si fanno gli interessi di chi Finora Ha avuto il potere in mano E lo gestisce con maggiore facilità Quando l'elettorato È un elettorato disinteressato Quindi io faccio appello a tutti Ad andare a votare E votare con tutta la libertà Che è stata concessa Quindi dando preferenza Sia al partito Sia scrivendo il nome del candidato Che si preferisce Se io fossi del PD O simpatizzante Diciamo di centro-sinistra E non fossi d'accordo Con una politica Tipo quella di Renzi Con una politica Tipo quella No? Ma te lo stesso C'eri scioli Eccetera E avrebbe senso Votare una persona Tipo te Con le tue idee Eccetera Ne abbiamo già parlato prima Magari adesso ci facciamo anche Ci fai anche un accenno E quindi in sostanza Cambiare dall'interno Di una maggioranza? Sì Perché? Ecco Convincimi su questo Perché la politica Deve tornare a essere dibattito Deve essere Un confronto su idee Deve essere Deve partire dai valori Per cui non è indifferente Chiaramente appartenere A uno schieramento O l'altro Però bisogna ritornare A parlarsi Bisogna ritornare A scontrarsi Bisogna ritornare A partecipare Alle assemblee pubbliche Quindi bisogna ritornare A fare politica Ecco scusami Hai toccato una cosa Importantissima Allora Le campagne elettorali No? Spesso vengono fatte All'interno dei circoli Cioè si evita Il confronto pubblico Perché? Perché nel confronto pubblico Ovviamente possono venire fuori Le polemiche Diverso è all'interno Di un circolo Questo è stato Per esempio Per le primarie Abbiamo seguito Le primarie Ceriscioli Marcolini E devo dirti Che effettivamente Poi è andata così Cioè abbiamo seguito Ceriscioli In un circolo Del PD Ovviamente Non c'erano Le polemiche L'incidente invece È successo A Marcolini A Pian di Meleto Perché lì Si sono trovati Davanti gli agricoltori E se la sono presa Ovviamente Col primo che capitava No? Ecco Come si fa Quindi A riconquistare Le persone Perché attenzione Questo vale Anche per i sindaci Qui c'è una certa chiusura Si evita la polemica Basta non fare Gli incontri pubblici O se li fai Li fai legati A un argomento Sperando Che non si esce fuori Da quello Quindi tu sostieni Che invece Affrontare anche la critica Può essere costruttiva Cioè ripartire Da lì? Si È un esercizio Che tutti noi Dobbiamo fare Non solamente in politica Il confronto con le persone È un confronto Indispensabile Per crescere La politica Si deve nutrire di questo È evidente Che deve essere Un confronto leale Non mi piacciono Ovviamente Coloro che si presentano Nelle assemblee Promettendo cose Realizzabili Quindi è un confronto Di ascolto Che deve portare Poi ad assumere Delle posizioni Che devono essere Posizioni chiare E ritengo Che la mia formazione Personale In questo sia un aiuto Perché io sono architetto Sono abituata A dovermi confrontare Con le esigenze Delle persone Anche esigenze A volte difficilmente Coniugabili Tra di loro Tra moglie e marito L'imprenditore E il comune Quindi una serie Di circostanze In cui ci sono Aspettative Non realizzabili L'impegno che un politico Dovrebbe avere È quello di riuscire In primis ad ascoltare Riuscire a fare Un'analisi Della situazione E poi portare All'evidenza Quali possono essere Le prospettive Con lealtà E quindi far capire Eventualmente Quali sono Concretamente Le possibilità Che possono presentarsi Quindi non promesse Ma capacità di ascolto Sicuramente E capacità di sintesi Poi chiaramente Prendendosi la responsabilità Che questo comporta Ok Adesso senza entrare Nei dettagli del programma Anche perché Se no giorno 10 Voglio dire 40 minuti Sono lunghissimi E avrai modo Di approfondire Tutto quello che vuoi Ti chiedo Proprio così Diciamo i titoli Ecco in sintesi Molto in sintesi Quello che è Il tuo programma Personale Diciamo dove più Sei specializzata Se si può usare Questa parola Ok Allora Parlare di programma È un termine Che mi piace relativamente Nel senso che Il compito di un consigliere È in realtà Quello di declinare Un programma Che è il programma Del PD Con ovviamente Il mio impegno È quello di declinarlo A favore Quindi scusa Per noi demagoghi Cioè Quindi far mettere In pratica Quel bel programma Di ceriscioli Diciamo Approfondirlo E riuscire appunto A declinarlo Secondo quelle che sono Le esigenze Le aspettative Dei territori Che io mi onoro Di voler rappresentare E di riuscire anche A far sì Che questi territori Rappresentino E questo è l'obiettivo primario Perché penso Che sia davvero La chiave di volta Rispetto alle politiche regionali Quello di riuscire A rappresentare Le eccellenze Che i nostri territori Rappresentano In primis Urbino Ma semplicemente Perché Offre una serie Di eccellenze Che possono essere Una risorsa Davvero Per tutti Per tutto All'entraterra E in questo modo Riuscendo A essere Consapevoli Riuscendo a rappresentare Alla regione Le eccellenze Che noi Abbiamo Sicuramente Riusciremo a essere Molto più incisivi E molto più forti Rispetto alle decisioni Che la regione Dovrà prendere Questa non è una sciocchezza Perché nel momento In cui noi sapremo Essere Forti In questi termini Tutte le richieste In termini di servizi Di valorizzazione Sanno richieste Senz'altro Più forti L'errore Che è stato Sicuramente Sotto gli occhi Di tutti Finora È la marginalità Di Urbino E dell'entroterra Pesalese Rispetto Alle politiche regionali Ma noi siamo Sicuramente Anche complici Di queste scelte Perché siamo Finora Stati succubi E sicuramente Poco coesi Rispetto alle richieste O rispetto ai problemi Che siamo andati a presentare Questo è senz'altro Un problema Ecco Anzi Possiamo parlare In questa sede Cioè L'entroterra In generale Non ha Rappresentanti Se c'è Se noi siamo Il nord Ma in realtà Siamo il sud Delle marche Un motivo c'è Perché proprio Parlo di entroterra Attenzione Perché non abbiamo Rappresentanti Quindi Se Chi va a votare Innanzitutto Con una raccomandazione A presidere Anche dal votare Te o meno Cioè Votate dei candidati Del centro terra Sei d'accordo su questo? Sì Faccio un passo indietro Perché questo va spiegato Agli elettori Finora I consiglieri regionali Erano 42 Sono stati ridotti Di numero Perché L'opinione pubblica Appunto Ha voluto Spingere Verso una Riduzione Dei costi Della politica Sì In realtà È un'operazione Che Diciamo Chiamiamola Populista Nel senso che Ha ridotto In realtà La rappresentanza Che Territori Con un elettorato Quindi questo è stato Negativo Da questo punto di vista Si potevano ridurre Gli stipendi E diciamo Che il risultato Sarebbe stato uguale In questo caso Sono stati ridotti Da 42 a 30 E nella nostra provincia Quindi i rappresentanti Passano da 9 a 7 Evidentemente Dove l'elettorato È più compatto E coeso Ci sono maggiore possibilità Di essere eletti Quindi l'entroterra Ha necessità Di portare avanti Un progetto forte Quindi invito tutti Ad esprimere La preferenza Ad esprimerela Per un candidato Dell'entroterra Ecco anche perché Questo è importantissimo Perché tanta gente Magari non mette La preferenza E questo crea Dei problemi Proprio alla rappresentanza Dell'entroterra Anzi vogliamo dirlo Un attimo Cioè Quanti Mi sai dare questo dato Nella provincia di Pesaro Urbino Cioè più o meno Quanti candidati passano Ospicabilmente Tra tutte le forze politiche Che sto dicendo Allora tra tutte le forze Provincia di Pesaro Urbino Praticamente I consiglieri saranno 7 Quindi esprime 7 consiglieri Attenzione Dove considerando Anche per numero Di abitanti La costa È più abitata Quindi Probabilmente Ci sono delle stime Dove potrebbe addirittura Non passare Nessun rappresentante Del Monte Feltro Anzi Dell'entroterra Parliamo meglio Perché noi siamo Monte Feltro TV Quindi abbiamo sempre Questo Monte Feltro E Cioè Due Tre Cioè se va bene Proprio se va bene Tra le varie forze politiche Anche due Forse uno Quindi mi raccomando È importantissimo Votare dei candidati Dell'entroterra Se io fossi del PD Voterei questa ragazza Non per Per cosa Forse per Antipatia di altri Una scelta del meno peggio Non ti voto Perché non vado a votare E Però Dai C'è questa cosa Importantissima Soprattutto Non esprimere la preferenza Significa consegnare La propria preferenza A chi Già Ha la maggioranza Dei voti Quindi evidentemente Verso Sicuramente un candidato Della zona della costa Quindi Esprimete la preferenza E questo è già Un bel segnale Certo Ok Qualche altro punto Che vuoi toccare Un attimo così al volo Sì Sono architetto Quindi evidentemente La mia sensibilità Va soprattutto verso Il grande patrimonio Territoriale Che noi abbiamo Che è fatto Sicuramente di paesaggio E a questo Si lega profondamente Il lavoro dell'agricoltura È fatto di borghi storici Quindi abbiamo Degli esempi Fantastici Che hanno necessità Di una rivalutazione E in questo senso Ben chiaro Quali possono essere Le strategie Anche in termini Di revisione Di alcune normative Che oggi limitano La possibilità Di recupero Di questi Borghi storici Non dimentichiamoci Che la regione Ha due Compiti fondamentali Quello di legiferare Perché declina Le leggi dello Stato All'interno Pronto del territorio regionale E quindi Opera in questo senso E quindi Ha una responsabilità Enorme Nell'ambito Dell'edilizia Della tutela Del territorio Di molti altri settori E gestisce I fondi europei Quindi La regione È strategica In questo La disaffezione Questo è l'argomento Tutti i candidati Parlano di questi famosi Fondi europei La capacità Di progettazione Quindi qui entra La famosa parola Che personalmente Odio La competenza La odio Perché qualcuno La usa A suo modo e costume Eccetera Però effettivamente Non è facile Fare una progettazione Oltretutto Questo tipo di progetto Va fatto In una zona Abbastanza allargata Deve essere collettivo E qui Dalle nostre parti Ci sono anche Questi problemi Che gli stessi sindaci Per esempio I vari territori Ognuno pensa un po' a sé E fanno fatica A fare Gruppo Ecco Quindi diciamo Tu ovviamente Sei una persona Adatta per questo tipo Di competenza Ecco la famosa parola Competenza Scusate Io faccio Fatica a nominarla Quindi pensi Che ci possano essere Delle possibilità Concrete Per riuscire a portare Qualche soldo Nelle nostre terre Cominciando anche Dalle strade Per esempio Allora Le strade Sono un discorso a parte Poi non dimentichiamo Io non ho capito questo Non so se posso Rivolgere a te Questa domanda Forse la dovrei Rivolgere a Dio A Ceriscioli No Magari Uno spacca Cioè Come Si può In questi progetti Quindi usare Questi soldi Della comunità europea Quindi fare un progetto Cioè consistente Per il territorio Eccetera Ma portare Qualche soldo Pratico Sulle strade Perché ovviamente La strada è la prima cosa Cioè Se tu parli di agolo alimentare Abbiamo i prodotti E abbiamo dei posti bellissimi Dobbiamo coordinarli Eccetera No ma con le strade rotte Praticamente E ci manca Abbiamo la magliettina Un nuovo progetto Un nuovo progetto Tipicamente Cosa succede quindi Ed è sotto gli occhi di tutti Che poi nella gestione Del progetto Che viene realizzato Invece Ci si trova In difficoltà E questo è evidente Negli ultimi interventi Cioè però magari Magari si possono Postare risorse Cioè nel senso Che se tu riesci A incamerare dei soldi Da un progetto Della comunità europea La regione Magari potrebbe destinare Cioè Non so se è possibile Lo chiedo Al momento attuale La viabilità Rappresenta invece Un problema più complesso Perché le strade Sono in gran parte provinciali E la provincia Non è la regione Ovviamente Ma anche qualora Queste strade Passassero di competenza Alla regione Nei fondi ordinari Non ci sono i soldi Per andarle a sistemare E quindi come facciamo? Quindi la mia idea È questa Deve viaggiare Su due livelli Uno Andare a individuare Dei fondi ordinari Che possano consentire La manutenzione Ordinaria delle strade E oggi Quelli non ci sono Purtroppo per oggi Non ci troviamo In un problema Di gestione Di ordinarietà Di manutenzione Ma ci troviamo Di fronte Quella che è sotto gli occhi Di tutti Come emergenza straordinaria Quindi In questo caso Bisogna andare Ad individuare Dei fondi straordinari Che possono Essere fondi O statali O andare a chiedere Anche all'Europa Di andare a individuare Un capitolo speciale Di spesa Per rimettere In condizioni ordinarie La nostra viabilità Questa è una fase alta Della politica Nel senso Qui si arriva Alla politica statale Probabilmente Certo E' un quesito Questo che vorrei Porre anche A David Sassoli Che sarà Urbino L'otto Di questo mese E che incoderemo Proprio per parlare Di politiche europee Per affrontare Anche questo tema Per chiedere Se esiste La possibilità Di andare A individuare Un capitolo Di spesa O comunque Un finanziamento Particolare Per ripeto Riportare In condizioni Di ordinarietà Le nostre strade Ok Senti Una domanda Personalmente Era uno di quelli No Chiudiamo le province Eccetera Eccetera Vabbè Diciamo che Non doveva Andare Certo così La cosa Ma Oggi come oggi Forse Ho anche cambiato idea Cioè Forse era meglio Chiudere le regioni E tenere le province Che dici su questo? Visto che stiamo parlando Di regionali Sono d'accordo Ah Fantastico Sono d'accordo E Purtroppo La disaffezione Delle persone E L'aggressività Che La gente comune Ha nei confronti Della politica Porta a volte A fare delle scelte Che sono scelte Come la riduzione Ad esempio Dei consiglieri Scelte Non sufficientemente Ponderate L'eliminazione Delle province È un punto Di debolezza Soprattutto Per le aree Che noi Riteniamo più deboli Quindi per le aree Dell'entroterra Non avere Questa 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 rappresentanza Intermedia È senz'altro Un punto di debolezza Acquista Maggiore rilevanza Poter avere Una rappresentanza In regione E comunque Avere qualcuno Che sappia Dialogare Con i territori Con i problemi Che questi Vogliono Vogliono Rappresentare Ok Parlare di sanità In un minuto È quasi impossibile Però Criticare È facile Quindi Siccome io sono Demagogo Faccio il mio mestiere Leggo Da un post Di un altro candidato La sanità marchigiana 22.000 dipendenti 3.000 medici 9.000 infermieri E 10.000 Amministrativi Le parolacce Non si possono dire Cazzo Ma 10.000 Amministrativi Cioè Che cosa ce ne facciamo Francamente Non era meglio Magari che 5.000 di questi Andavano a fare Gli infermieri Senz'altro sì Risposta secca Benissimo Chiaramente La riorganizzazione Quindi con L'ottimizzazione Dei plessi Porta necessariamente A una riduzione Di questo apparato Amministrativo Siamo ancora In una situazione Di attuazione Per fasi Di una Revisione Del sistema sanitario Che va Nella direzione Di ridurre Questi Questi costi C'è molto da fare C'è molto anche Da ricalibrare Però l'obiettivo È andare a ridurre Proprio E si fa queste cose Cambiando anche le persone All'interno Di una stessa Di uno stesso partito Secondo me sì Perché se questa cosa Ripeto Che a me personalmente Non piace C'è l'idea Della Personalmente Metto in discussione Detto questo Una domanda Al volo Nella provincia Di Pesaro Urbino Soprattutto Tra Pesaro E diciamo La parte Del Monte Feltro C'è una certa Voglia Di andarsene In Romagna Una domanda Secca Ce ne andiamo In Romagna Vieni anche tu Io penso Che noi siamo Orgogliosi Della nostra Appartenenza Alla regione Marche Quindi Passare in Romagna Lo diciamo Come sfida Lo diciamo Come polemica Però io credo Che Siamo contenti Di appartenere A questa regione Quindi tu dici Stiamo nelle Marche Siamo nelle Marche Parliamo magari Anche un dialetto Più vicino A quello romagnolo Da queste parti Però stiamo nelle Marche Ok E l'altro Punto che volevo Così sentire un attimo E la tua opinione Personale Sull'aspetto Della guinza Quella di Ceriscioli Potete andare a vedere Il nostro post E' legato A un discorso E78 Quindi E78 Sì o no Legato alla guinza Appunto Cioè Qual è il tuo Uguale O con qualche differenza Che abbiamo già investito Molto lì E quindi Il tratto che è stato Realizzato Deve essere necessariamente Aperto Quindi bisogna Essere consapevoli Che si tratta Di una responsabilità Che abbiamo Appunto verso Gli elettori E verso Anche i cittadini Che hanno già pagato La realizzazione Di una galleria Quindi Il tratto Fin dove è possibile Deve essere aperto Quindi almeno affrontare Devono essere trovati I fondi Come si chiama Qual è la parola giusta Per dire Una commissione di studio Per valutare Fino in fondo Agibilità Le soluzioni Ovviamente Purtroppo Come spesso accade I progetti Sono partiti Negli anni 90 Oggi Troviamo La realizzazione Di una galleria Che sicuramente Non rispetta Gli standard Dierni Quindi è un problema Che deve essere affrontato Però Parlando anche Con gli imprenditori Che lamentano La necessità E l'urgenza Di andare A aprire Questa galleria Ci possono essere Delle soluzioni Che sicuramente Non sono le ottimali Ma che Appunto A fronte Di un progetto In parte realizzato Possono essere Utilizzate Per aprire Quel tratto Chiaramente L'urgenza È quella Di sistemare Anche la viabilità Ordinaria Perché il discorso Che facevamo prima È in questo momento L'urgenza Rappresentata Da tutti Gli imprenditori Operatori Turistici A tutti i livelli Ok Senti un'altra cosa Tu sei di Urbino Quindi Urbino È molto sentito Il discorso Se si vuole Riaprire questa ferrovia Qual è il tuo punto Di vista personale Una volta Mi sono permessa Di dire Che sarebbe un sogno Con tutto L'aspetto positivo E diciamo Di critica Che la parola sogno Può rappresentare Cioè un sogno Perché sicuramente Per chi ha percorso Questo tragitto E per chi l'ha percorso C'è la consapevolezza Che è un tragitto bellissimo Quindi dal punto Di vista turistico È senz'altro Una risorsa Però la parola sogno È legata anche al fatto Che il mio timore È che i fondi Siano difficilmente Intercettabili Ma che soprattutto La gestione Poi della ferrovia Possa rappresentare Un problema enorme In termini Di gestione Dei costi Quotidiani I 5.000 Utenti I giornalieri Temo che siano Sovrastimati Però chiaramente Qualora ci fossero Tutte le prospettive Tutte le carte di regola Per aprirla Io sono la prima A essere favorevole Anche perché Sono favorevole A tutti Alla mobilità Sostenibile Quindi a tutti Gli investimenti Che vadano In quella direzione È doveroso Pensare Che questa Rappresenti Una risorsa Per Urbino Per i comuni Limitrofi Ok Non abbiamo fatto In questa Piccola trasmissione La tua presentazione Perché in realtà Vi vogliamo rimandare E ci teniamo Che le persone Vengano direttamente Di presenza A trovarti Il 10 Quindi Lasciamo questa Situazione Aperta Durante questa Registrazione Metteremo anche Qualche immagine Qualche cosina Che facciamo adesso Noi qui Qualche piccolo Backstage E io direi Che dai Per questo post Siamo anche a posto Inviterei però Le persone A visitare Il mio sito www.raffaellavagnerini.it Dove trovate Tutte le attività Che sto svolgendo In particolare I video Che stiamo girando Sul territorio Un sistema Anche simpatico Per farmi conoscere E conoscervi Ok E soprattutto Il 10 All'hotel Arca Di Mercatale E tu alle 16 L'evento inizia Alle 14.45 Tu alle 16 Sarai lì Di presenza E risponderai Anche alle domande Di chi vorrà Fartele Ok Grazie Dai A risentirci Magari anche Dopo le lezioni Se sei d'accordo Ok Grazie A risponderai A risponderai E risponderai A risponderai A risponderai A risponderai Grazie a tutti.